Dopo una lunga attesa adesso è ufficiale, la Fiorentina Basket ha presentato la domanda di ripescaggio in Serie B. La società viola nata la scorsa estate e retrocessa in Serie C al termine di una tribolata stagione. Diventa così la prima squadra in lista per il ripescaggio, venendo considerata dalla FIP come miglior retrocessa della stagione 2015-2016. Ritorno in Serie B che dunque dovrebbe essere solo una formalità, pur con alcuni dubbi, su quello che sarà il girone in cui la Fiorentina Basket sarà chiamata a competere. Attualmente, considerando la rinuncia di Sant'Arcangelo, il posto vacante che dovrebbe aspettare ai viola del basket è nel girone di quello adriatico, attualmente a 15 squadre dove i gigliati affronterebbero Rimini e formazioni di Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata. Un girone costoso a livello logistico con tante trasferte che renderebbero più dura la stagione e che rosicchierebbero anche parte del budget che la società del presidente Piacenti ha pianificato per la costruzione della squadra. Fiorentina Basket che comunque rimane alla finestra in attesa di ulteriori e probabili defezioni nelle aventi diritto alla categoria. A rinunciare potrebbero essere Saronno, che avrebbe diritto ad un posto nel girone delle Toscane, Falconara e Matera, che hanno tempo fino al 7 luglio per comunicare il passo indietro. Oltre a chi potrebbe rinunciare ad un posto in Serie B ci sono poi società che ancora non hanno presentato domanda di ripescaggio. Dal Livorno, che sembra orientata a rinunciare, a Vasto, anche se la nuova proprietà aveva annunciato la ripartenza dalla Serie C Silver. Tra le non promosse dalla C, richieste pervenute invece da Virtusimola, Pozzuoli e Alba, che precedono l'altra retrocessa Pavia nell'elenco delle riserve. La società viola intanto sembra non essere preoccupata per la vicenda inerente in lodo relativo all'acquisto del titolo sportivo del team basket Montichiari. La scorsa estate la Fiorentina ottenne la partecipazione in Serie B, proprio acquisendo il titolo di Montichiari dal presidente Foschetti. Un titolo sportivo che però non sarebbe stato pagato dalla società fiorentina, ma solo perché, proprio sul titolo sportivo, graverebbe una situazione debitoria da far ricadere nella gestione di Montichiari. Una risposta in favore della Fiorentina, o di Foschetti, arriverà dalla FIP per il prossimo 11 luglio. Fiorentina Basket che intanto, attendendo tali decisioni, programma il proprio futuro sportivo. Prossima all'ufficialità del rinnovo di Jacopo Valentini, Viola starebbero cercando di convincere anche Momo Touré a prolungare di un altro anno la permanenza a Firenze. Sul giocatore si è fatto forte l'interesse di numerose società e la Fiorentina non parteciperebbe ad un eventuale a star rialzo. Ma se Touré dovesse essere motivato e voglioso di vendicare la stagione appena conclusa, il GM Fagotti potrebbe riuscire a strappare un sì dalla guardia ex Olimpia Milano. Per la panchina invece i Viola sarebbero vicinissimi al raggiungimento dell'accordo con Giulio Cadeo, allenatore già visto a Firenze, con l'Everlast nella stagione 2006-2007.